Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura parliamo del convegno che si è tenuto a Montesilvano, nel quale si è discusso del futuro della variante alla Statale 16 che attraversa in direzione nord-sud l'area metropolitana di Pescara. Per completare l'asse viario servono almeno 100 milioni di euro che al momento non sono stati stanziati. Presto però l'opera potrebbe tornare in agenda. Il servizio di Alfredo Primante. Francamente non si parte da zero, basta la volontà politica per realizzarla. Il completamento della variante alla Statale 16 deve tornare nell'agenda politica del governo. E questa è la richiesta raccolta dal presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, Altero Matteoli, che a Montesilvano ha partecipato ad un convegno organizzato dall'amministrazione comunale e a cui hanno presenziato anche la provincia di Pescara e la regione Abruzzo per discutere del futuro dell'asse viario a scorrimento veloce. Servono almeno 100 milioni di euro per portare a termine il progetto, soldi che ANAS non ha, e poi il cammino dell'opera, attesa da decenni da tutta l'area metropolitana e anche dalla regione, deve riprendere, spiega Matteoli, da dove si è fermato e quindi i tempi non saranno certamente brevi. Il DPF approvato dal Parlamento, il DPF 2008-2012, era inserita a questa opera. Poi i governi successivi lo hanno tolto. Ora però si tratta di coinvolgere l'ANAS, si tratta, ora se viene fatto un nuovo governo, di poterla portare anche nella commissione che io presiedo, per vedere di trovare anche alleati tra gli altri membri della commissione, per poter insistere e fare pressione sul governo, sul ministro del Rio in questo caso, o comunque su chi andrà al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e poi spingere molto su ANAS. Nel convegno a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei comitati civici di Montesilvano, si è parlato anche del presente della variante. A breve la galleria I Pianaci, inaugurata nel 2009, verrà sperimentalmente limitata alla circolazione in senso unico verso sud. La galleria, infatti, non è a norma, è tra le più pericolose del nostro paese e sopporta un carico di 35.000 veicoli, troppi per le potenzialità attuali. La proposta di ANAS, accolta dal tavolo prefettizio, però è molto discutibile, e rischia di far tornare Santa Filomena alla situazione anteapertura della galleria, spostando traffico e smog nella zona al confine con Pescara. È una soluzione che comunque avrà una validità soltanto di qualche mese, dopodiché rifaremo una valutazione sul tavolo prefettizio da cui questa soluzione è uscita, per cercare di garantire quella che è la celerità degli spostamenti dei nostri cittadini e delle merci che transitano oggi su quell'arteria, con quelle che sono le necessità della sicurezza che deve garantire comunque l'accesso e la viabilità all'interno. Esplode la polemica in Regione dopo la delibera della Corte dei Conti che accusa l'ente di enormi ritardi nel riaccertamento dei crediti e debiti pregressi. Per Di Nicola però non si tratta di bacchettate, ma di un pungolo a fare ancora meglio e recuperare il tempo perduto da altre amministrazioni regionali. Io non parlerei di bacchettare, perché la Corte dei Conti, come ho detto anche in altre occasioni, svolge una funzione dell'ordinamento repubblicano. È una funzione di controllo e di pungolo rispetto alle pubbliche amministrazioni. Noi raccogliamo con attenzione le segnalazioni che dalla Corte dei Conti ci pervengono. Non chiamatele bacchettate, ma un pungolo ed uno stimolo che deve spingere la Regione a recuperare il tempo perduto da altre amministrazioni nella partita del riaccertamento contabile. Parole del consigliere regionale Maurizio Di Nicola, presidente della prima commissione bilancio, all'indomani della delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che ha evidenziato gravissimi ritardi e comportamenti omissivi della Regione Abruzzo nella parifica dei rendiconti relativi all'anno 2013, che sarà approvata a giorni, al 2014 e al 2015. Ancora da venire, insomma, l'operazione Verità che obbliga la Regione ad esaminare i debiti e i crediti dell'ente accumulati negli anni per poter quantificarne con esattezza la consistenza e dunque il disavanzo accumulato. Operazione necessaria, anzi obbligatoria, per prevedere un piano di riduzione a rate di tale disavanzo per poter approvare bilanci con coperture reali e non solo scritte su pezzi di carta. Il Movimento 5 Stelle, a seguito del pronunciamento della Corte dei Conti, è arrivato a chiedere le dimissioni dell'assessore al bilancio Silvio Paolucci, che a sua volta ha preso di petto la vicenda accusando la Corte dei Conti di aver usato nella relazione aggettivi demolitivi e di non aver preso in dovuta considerazione l'immenso sforzo che la Regione sta compiendo nella partita dei riaccertamenti, recuperando il tempo perso e le omissioni delle legislature precedenti. Sulla stessa linea di Nicola, seppure con tonni più concilianti e sfumati. E gli uffici sono impegnati al massimo delle forze possibili a mettere in qualche maniera un riparo ad un lavoro che avrebbe dovuto essere svolto negli anni trascorsi e che non è stato svolto. Quindi nessuna preoccupazione se non il fatto che bisogna accelerare ulteriormente perché questo organo di controllo che svolge una funzione dello Stato ci dice che è necessario recuperare il tempo perduto. Qui la parte politica obiettivamente ha nelle mani il pallino politico della gestione ma la documentazione e gli incartamenti evidentemente devono pervenire dai dirigenti e dagli uffici della Regione Abruzzo. Io so che l'assessore Paolucci è impegnato fino allo stremo delle forze su questo aspetto e ha sollecitato tutta l'attenzione possibile ai nostri dipendenti regionali. Confidiamo che nel minor tempo possibile si possa arrivare a rimediare a quell'ultimo pezzetto di strada che ci manca. Sono 17.346 le richieste pervenute alla Regione Abruzzo per le verifiche di agibilità degli edifici privati danneggiati dal sisma a partire dagli eventi tellurici dello scorso 24 agosto. Finora sono stati effettuati 5.227 sopralluoghi mentre circa 12.000 sono quelli che devono ancora essere compiuti. La fotografia è scattata questa mattina a Pescara in Regione dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso in occasione della riunione tecnico-operativa con il Commissario Vasco Errani e con i sindaci dei comuni ricadenti all'interno del cratere sismico per l'avvio procedurale delle iniziative volte alla canchierizzazione degli interventi di ricostruzione e recupero. Alla successiva riunione invece hanno partecipato i sindaci dei comuni fuori cratere Cagnana-Miterno, Barete, Pizzoli, Isola del Gran Sasso, Colle d'Ara, Castel Castagna, Fano Adriano e Pietra Camela. Si è dato luogo ad una sorta di rivoluzione delle verifiche ha commentato D'Alfonso in quanto è cambiata radicalmente la procedura. Precedentemente ha spiegato le schede AEDES quelle relative all'accertamento dell'agibilità e del danno nell'emergenza antisismica erano redatte dalla pubblica amministrazione. Adesso invece, grazie a questa modifica che è intervenuta, ha aggiunto tale adempimento rientra tra gli oneri dei tecnici professionisti incaricati dai proprietari degli immobili danneggiati. In addirittura d'arrivo il progetto di legge regionale che estende la caccia al cinghiale anche nelle aree abruzzesi dove fino a qualche anno fa non era prevista perché non frequentata dai branchi di Ungolati una misura chiesta a gran voce da circa 60 sindaci del Chietino. Filippo Tronca Estensione della caccia al cinghiale anche nelle aree non vocate ovvero nelle colline e nelle aree costiere anche mediante la braccata, ovvero con battute di caccia che utilizzano mute di cani. Il provvedimento arriverà in Consiglio regionale la prossima settimana ed era stato richiesto a gran voce dagli agricoltori di tutto l'Abruzzo e in particolare da ben 60 sindaci del Chietino preoccupati dai voraci branchi di Ungolati che oramai sono arrivati, immortalati da foto che hanno fatto il giro del web anche in riva al mare e che devastano le coltivazioni fino a pochi anni fa risparmiate dalle loro scorribande. Al nostro microfono il sindaco di Rocca Scalegna, Domenico Giangiordano. Questa è una battaglia che come sapete l'abbiamo iniziata da settembre perché quest'anno abbiamo avuto dei casi anche mortali di incidenti sui cinghiali. Dopo varie battaglie con il prefetto siamo stati accolti dall'assessore il quale ci ha riunito in tavoli tecnici dove noi abbiamo portato le nostre proposte. Noi viviamo i territori, sappiamo quali danni stanno creando questi cinghiali sia alle colture sia proprio all'incolumità fisica delle persone. Immaginate che le persone hanno paura di uscire la sera a farsi la passeggiata. Resta però una forte divergenza su chi deve fare i piani di abbattimento annuali. Il progetto di legge licenziato in terza commissione agricoltura prevede che a farli deve essere la regione che ha assunto tale compito dalle province in via di ridimensionamento di delega e personale. Il centrodestra sostiene invece che i piani di abbattimento debbano essere invece affidati ai 12 ambiti territoriali di caccia organismi associativi composti dagli stessi cacciatori dei rispettivi territori che si occupano di gestione della fauna selvatica e di programmazione dell'attività venatoria. Il 79enne di Chieti, Vittorio Poglio, scultore e artista, è morto all'ospedale di Pescara circa 20 giorni da una caduta nella quale era rimasto gravemente ferito. L'anziano, lo scorso 21 novembre, stava pulendo un piccolo terreno scosceso di fronte alla sua abitazione di Chieti quando è caduto battendo la testa su un cordolo in cemento ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sono mai migliorate e nella notte è espirato. Coppia dell'inventario informatizzato dei beni storici e artistici dell'Arcidiocesi di Chieti Vasto è stata consegnata questa mattina dall'Arcivescovo Bruno Forte alla soprintendenza. Sono 16.328 i beni mobili inventariati dall'ufficio diocesano dei beni culturali ecclesiastici. Siamo convinti che la custodia del patrimonio artistico, in questo caso di beni mobili dell'Arcidiocesi, sia un servizio per la conoscenza di questi beni, per la fruizione da parte non solo delle nostre comunità ecclesiali ma dell'intera società civile che fa crescere tutti. Tale inventare azione permette nei momenti di sconvolgimento naturale, come i terremoti, di avere notizie dettagliate sui beni conservati nei singoli edifici sacri, favorendone il recupero e la tutela. Non si può tutelare e non si può valorizzare ciò che non si conosce, quindi è fondamentale questa campagna di catalogazione che la soprintendenza ha avviato già una trentina di anni fa. Oggi l'Arcidiocesi di Chieti ci offre uno strumento di lavoro, uno strumento di tutela, lo offre ai parroci ma lo offre anche a noi funzionari di soprintendenza in una fase in cui giustamente lei stava richiamando la necessità in momenti anche di calamità di avere ben presente ciò che va tutelato, ciò che va anche trasferito in situazioni in cui il contenitore non è più in grado appunto di assicurare la conservazione del bene. Essendo legati rappresentanti degli enti si assume una responsabilità non solo verso la comunità religiosa ma anche con penalità civile. Questo è possibile proprio perché si è lavorato tanto in questi anni e oggi possiamo dire che abbiamo messo un punto fisso. Fra i beni di cui non si conosce il valore economico totale c'è il messale Borgia. È uno dei tantissimi beni culturali che ha un incommensurabile valore anche direi quasi in termini economici ma naturalmente il valore artistico è fondamentale perché viene considerato il capolavoro della miniatura fiorentina degli inizi del XVI secolo. Un colpo notturno all'ufficio postale di Torrano Nuovo in provincia di Teramo fallisce per l'intervento del parroco. È successo questa notte verso le 4 nel centro vibratiano. Il prelato era stato svegliato dai forti rumori che provenivano dal vicino ufficio e ha avvertito i carabinieri. La banda ha rinunciato al colpo ed è riuscita a fuggire a bordo di una macchina di colore bianco grazie all'ostacolo creato sulla provinciale con alcuni tronchi d'albero sistemati sul tracciato. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri il gruppo composto almeno da 4 persone ha dapprima rubato una pala meccanica in un cantiere di Sant'Egidio alla Vibrata e dopo averla trasportata con un camion fino a Torrano ha tentato di sfondare l'ingresso dell'ufficio postale posizionato sul retro dell'edificio. L'allarme dato dal parroco ha interrotto l'opera di demolizione del manufatto e il probabile furto del Bancomat. Le indagini sono condotte dagli uomini nel nucleo operativo dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. E ora andiamo a Pescara il centro-destra riaccende la polemica politica l'opposizione azzurra chiede ai consiglieri della lista Teodoro di uscire allo scoperto e di sfiduciare pubblicamente il sindaco Alessandrini che li ha estromessi dalla giunta nell'ultimo rimpasto. Giunta il Consiglio Comunale di Pescara paralizzati dall'ostruzionismo della lista Teodoro i rappresentanti di opposizione del centro-destra puntano il dito contro le divisioni nella maggioranza che governa il capologo Adriatico e contro la decisione del sindaco Marco Alessandrini di estromettere dal rimpasto di giunta Veronica Teodoro. Secondo Marcello Antonelli, capogruppo di Forza Italia si sta creando un Vietnam inaccettabile e per questo invita i due consiglieri della lista Teodoro ad appoggiare la mozione di sfiducia al sindaco pronta dall'estate dello scorso anno. Una situazione davvero inaccettabile perché è la città stessa ad essere bloccata. Siamo in attesa di discutere delibere importanti, di urbanistica, c'è l'approvazione del bilancio di previsione e tutto questo deve soggiacere invece a quello che in qualche modo è un vero e proprio ricatto politico nei confronti del sindaco Alessandrini senza poi che da parte della lista Teodoro ci sia necessaria chiarezza ed è il motivo per cui noi li invitiamo pubblicamente a sottoscrivere con noi una mozione di sfiducia nei confronti di Alessandrini. Pronta dall'estate del 2015 in occasione della famosa triste vicenda del divieto di balneabilità mancava una firma adesso se i due colleghi della lista Teodoro sono d'accordo sottoscrivono quella mozione di sfiducia portiamo il dibattito sulla inadeguatezza del sindaco Alessandrini della sua giunta in consiglio comunale di fronte alla città. Dello stesso avviso Guerino Testa della lista Pescara in testa. Loro dicono e sostengono che il sindaco Alessandrini è un sindaco mediocre però continuano a dire che restano nel centro-sinistra quindi adesso non sappiamo se questa loro tattica è una tattica tesa ad avere anche qualche tornaconto politico. Noi a differenza della lista Teodoro dal primo giorno anzi dopo qualche giorno appena abbiamo visto all'opera Alessandrini e la sua giunta abbiamo detto che questa era un'amministrazione molto ma molto mediocre e i fatti ci stanno dando ragione perché se facciamo una carrellata su tutti gli atti fatti e non fatti a questa amministrazione possiamo dire che ormai Pescara sia immobilizzata. Terremoto a parte la città di Teramo si appresta a vivere questo Natale con ottimismo cercando di ritrovare la serenità nelle piccole cose e così la riapertura dello storico Caffè Grande Italia in Piazza Martiri vuole essere di buon auspicio alla ripresa economica del capoluogo. Nonostante le ultime scosse di terremoto con epicentro alle porte della città Teramo ha deciso che il Natale va vissuto come sempre luci, musica, struscio e aperitivi all'aperto per credere che il peggio sia passato. In questa ottica di voglia di andare avanti coraggiosamente la riapertura dello storico Caffè Grande Italia in Piazza Martiri diventa un'iniezione di ottimismo che fa bene a tutti. È una famiglia che investe su questo lavoro e su questa città. ci proponiamo con un locale rinnovato una pasticceria rinnovata con un bangone tutto nuovo. Avete un programma per i prossimi giorni? Assolutamente sì il Natale è vicino quindi ci proporremo con la pasticceria con i panettoni fatti apposta da noi stecche di cioccolate fatte da noi prodotte diciamo dalla pasticceria sotto dove sono oltre 15 dipendenti che lavorano diciamo per la pasticceria ma non solo abbiamo anche un esterno un esterno rinnovato con oltre 160 posti non c'è più il Deor c'è un gazebo riscaldato e illuminato dove potrete gustare diciamo tutte le predibatezze che noi produrremo. Veramente mancava Teramo è un locale storico ed è stata una bella cosa che abbia ripreso a vivere. Anche lei non è di Teramo però è venuta a questa inaugurazione come le sembra il locale? Bellissimo ci voleva per la città un locale splendido Questo è anche un modo per ripartire per far ripartire la città e il centro di Teramo? Assolutamente sì io ieri sera sono stato invitato dal titolare di Remigis e devo dire che al di là del locale che comunque ha un'importanza anche storica per la città è un punto di riferimento alla città da sempre la cosa più positiva è che ho visto 30 persone con il sorriso sulle labbra cioè 30 persone che comunque lavoreranno e quindi credo che ai imprenditori del genere sia importante anche dimostrare la vicinanza dell'amministrazione Cosa le ricorda questo locale? È un locale storico della nostra città quindi sono veramente contenta che di nuovo torna alla luce bellissima la cornice stasera un po' natalizia con questi violini di sottofondo ma ce la faremo secondo lei? Dobbiamo pensare di sì certo ce la faremo Restiamo a Teramo dove domani pomeriggio alle ore 17 nella sala polifunzionale della provincia Walter Mazzitti presenterà un progetto di rilancio del Gran Sasso d'Italia una montagna straordinaria da rivalutare come risorsa strategica per lo sviluppo dell'Abruzzo e come luogo di aggregazione degli abruzzesi il servizio d'Italia Bonnici Castelli Il Gran Sasso d'Italia è la montagna più alta dell'Italia peninsulare ed è un patrimonio identitario dell'Abruzzo riscrivere insieme una nuova storia su questo luogo straordinario è il progetto di Walter Mazzitti presidente dell'associazione Amici del Gran Sasso d'Italia la proposta è quella di comunicare attraverso un portale dedicato un'idea vincente e avvincente di montagna che privilegi grandi temi come quello dei giovani e del lavoro ed è più che mai opportuno farlo in occasione della giornata mondiale delle montagne indetta dall'ONU ormai mi sono convinto che bisogna cominciare a lavorare sul Gran Sasso d'Italia che resta veramente il grande totem identitario sul quale l'Abruzzo deve poter puntare abbiamo tutti bisogno di riconoscerci in qualcosa di forte e di forte noi abbiamo questo grande monumento ambientale che è la montagna più alta dell'Italia peninsulare la montagna più alta degli appennini sui quali intorno ai quali si è fatta la storia d'Italia quindi noi abbiamo questa grandissima opportunità questo grande potenziale potenziale che non abbiamo mai sufficientemente sfruttato io sono convinto che gli abruzzesi i terramani tutti coloro i quali vivono intorno al Gran Sasso non parliamo degli italiani non hanno ancora questa forte percezione ma allora come aggregarli? noi abbiamo immaginato l'associazione Amici del Gran Sasso l'Italia nasce con questo scopo cioè quello di aggregare attorno ad una rete attraverso una rete quindi noi presenteremo un nuovo sito internet molto innovativo molto bello nel quale ciascuno chiunque ami la montagna qualunque titolo cioè lo si ama per l'ambiente per il paesaggio per i fiumi per i boschi per gli animali eccetera ma chi ama anche la montagna perché pensa che la montagna possa diventare un luogo anche di sviluppo ecco tutti possono entrare a far parte di quella che noi definiamo la comunità del Gran Sasso d'Italia cioè tutti i cittadini ma non solo cittadini ma se vogliono anche da anteassociazioni enti eccetera i quali si vogliono riconoscere e si vogliono aggregare attorno all'idea di costruire un grande progetto futuro tra l'altro un progetto destinato alle nuove generazioni tra gli obiettivi dell'associazione Amici del Gran Sasso d'Italia presieduta da Walter Mazzitti c'è la promozione delle realtà agroalimentari montane definite nicchie ma che tutte insieme se sapientemente raccontate potranno valere molto più della Ferrari e del suo indotto e ora la pagina dello sport domani il delicato scontro salvezza di Crotone per il Pescara parliamo chiaramente di Serie A stamani la seduta di rifinitura nel pomeriggio la squadra in charter partirà da Pescara alla volta della Calabria ha parlato poco fa il tecnico Oddo che ha annunciato una novità importante ovvero la convocazione di Ugo Campagnaro che domani sarà a disposizione quasi certamente giocherà dal primo minuto recuperato dopo la virosi dopo il virus gastrointestinale anche l'attaccante Simone Pepe convocato anche lui ascoltiamo Massimo Oddo abbiamo fortunatamente recuperato tutti Pepe si è allenato sta bene e anche Campagnaro si è allenato col gruppo anche ieri ha fatto non tutto l'allenamento ma qualcosa stamattina ha fatto il test definitivo non ha sentito dolore quindi è disponibile non c'è una partita che è meno fondamentale di un'altra perché sono sempre tre punti che sia uno che sia l'altra poi è ovvio che negli sconti diretti è ancora più importante però sappiamo che andiamo a giocarci una fettina importante del campionato perché è uno sconto diretto perché è importante fare punti in un campo comunque complicato il Crotone è una squadra che ha raccolto più o meno come noi ma è una squadra in salute perché chi l'ha vista chi ha visto le ultime partite è una squadra che è sul pezzo e viva e da filo da torcere a tutti un po' come noi certamente la pressione pende un po' più dalla loro parte perché ovviamente giocano in casa sappiamo che è un campo ci siamo passati l'anno scorso no? è un campo caldo molto caldo loro certamente partiranno forte vorranno metterci in difficoltà ma noi andiamo a Crotone per fare la nostra partita convinti decisi e provando a fare risultati questa è una squadra che secondo me è un po' più attendista in determinati frangenti della partita è molto ordinata è una squadra molto ordinata in campo che sfrutta molto molto bene le ripartenze hanno giocatori veloci rapidi quando ripartono ripartono tutti assieme 4-5 giocatori sono veloci quindi Alberto sta bene come stanno bene tutti gli altri quindi in questo momento abbiamo recuperato giocatori la scelta è più ampia certamente delle scorse settimane e vediamo vediamo anche in base a come vogliamo affrontare la partita in base a a quello alle caratteristiche che servono in campo però tutti hanno delle chance ovviamente non è che diamo vantaggi in Lega Pro clamorosa svolta tecnica questa mattina perché c'è stato un nuovo avvicinamento in panchina esonerato il tecnico Nofri torna Lamberto Zauli che era stato a sua volta allontanato lo scorso mese di settembre dopo la sconfitta Casalinga contro il Modena il servizio un altro ribaltone l'ennesimo il Teramo cambia di nuovo via Nofri torna Lamberto Zauli il tecnico che era stato esonerato lo scorso 15 settembre dopo lo scivolone interno col Modena torna a sedersi sulla panchina biancorossa una scelta che cozza con quanto dichiarato mercoledì pomeriggio da Campitelli se dovete criticare criticati a me perché tutta la responsabilità me la prendo io al mille per mille Nofri non si tocca assolutamente no ma soprattutto fatta per necessità economiche e poco altro di più queste pare siano state le motivazioni di bolla e scacchioli una cosa del tipo non possiamo permetterci un altro allenatore riprendiamo Zauli che è ancora sotto contratto insomma che la confusione regni sovrana in casa termolo si è capito da un pezzo ormai si va per tentativi la decisione è stata comunicata questa mattina a Nofri proprio dal direttore generale Gianluca Scacchioli l'ormai ex allenatore lascia con 15 punti all'attivo in 13 uscite da Sant'Arcangelo dove iniziò con un 1-1 al capitombolo interno con la maceratese dell'altro ieri in tutto quattro vittorie tre pareggi e sei sconfitte di cui l'ultima fatale Zauli avrà subito l'impegno complicato di Parma e torna insieme al suo staff tecnico composto dal vice Giorgetti dal preparatore Mattia Vincenzi ennesimo ribaltone dunque dopo cinque stagioni senza i soneri due con Cappellacci tre con Vivarini il diavolo colleziona invece il secondo cambio in panchina dopo aver già sostituito un direttore sportivo impossibile a questo punto dire se sarà questa l'ultima mossa e proprio in questo momento nella sala stampa dello stadio Bonolis di Teramo è in corso la conferenza della nuova presentazione la presentazione bis del tecnico Lamberto Zauli al suo fianco anche il neo responsabile dell'area tecnica Alec Bolla andiamo ad ascoltare per un paio di minuti la conferenza un modo per fare del bene al Teramo io sono il direttore sportivo direttore tecnico quindi credo di consigliare e di fare le cose giuste per il Teramo a oggi siccome credo fortemente nel ritorno di Zauli ho detto quello che era la mia indicazione poi è chiaro che come ha detto anche il mister il presidente è in cima alla piramide e quindi da parte da parte sua ci deve essere l'ok altrimenti diventa comunque complicato la scelta di Zauli è stata prima la scelta di esonerare Nofri ed è stato ripeto un discorso di società sulla scelta di Zauli è stata una scelta ponderata una scelta ponderata e credo che fosse importante per tutte le cose che ho appena detto insomma invece al mister volevo chiedere se a distanza di tempo una volta tornato sulla panchina del Teramo ha avuto mai la sensazione di essere stato allontanato troppo presto dopo quattro giornate beh se trovi altri esoneri dopo tre quattro giornate mi sembra palese ma non perché sto parlando di sottoscritto veramente se io dovessi amante del calcio come sono vengo guardo una squadra di serie A allontanato un allenatore dopo tre quattro partite fai fatica a trovarli nella storia quindi parliamo però come ho sempre ripetuto io non ho mai fatto il presidente come mi ha scelto ha deciso le motivazioni cosa c'è cosa non c'è non mi interessano l'ho accettate da uno che ha fatto il massimo per il Teramo senza ottenere risultati perché l'ho sempre detto senza in quelle quattro partite abbiamo ottenuto meno di quello che fondamentalmente la squadra meritava ma non le abbiamo ottenuti e conta il risultato quindi non sono andato a casa pensando mamma mia il presidente che mamma mia il direttore che sono andato a casa e ho pensato ai miei errori perché secondo me solo così una persona intelligente può pensare di migliorare quindi non sono stato lì a pensare mi hanno esonerato troppo presto è chiaro che sono rimasto deluso avevo puntato molto su quest'anno dare continuità all'anno scorso per me era crescere di carriera perché venire a allenare il Teramo piazza ambiziosa quindi uno chi viene a giocare a Teramo lo fa carico di ambizioni poi ti trovi di fronte alle difficoltà che abbiamo trovato e bisogna saperci stare per questo intendevo prima bisogna saperci stare prendere le proprie responsabilità mettersi sempre la faccia davanti tirarsi sulle maniche e sognare di ritrovarci qui tra qualche mese a dire che il momento negativo è veramente alle spalle siamo qui per questo perché altrimenti l'ambizione dei singoli come la mia come del direttore come dello stesso presidente che sogna domani di rivedere il Teramo dove lui sogna Ok abbiamo ascoltato questo passaggio in diretta del tecnico neo allenatore del Teramo appena tornato proprio da questo oggi nel pomeriggio Zauri dirigerà il primo allenamento in vista della gara di dopo domani al Tardini di Parma contro la squadra che da poco è allenata dall'abruzzese Roberto D'Aversa in chiusura di TG il basket con il servizio relativo alla vittoria della Globo Info Service Campli contro Bisceglie Se servivano prove della consistenza della Globo Info Service Campli queste arrivano con l'inizio del miniciclo da Tour de Force il quintetto Farnese schianta senza mezzi termini la bisceglia di coach Domenico Sorgentone con una prova difensiva maiuscola e si regala il secondo posto solitario alle spalle della poderosa Montegranaro l'appetito viene mangiando e Campli dimostra di non essere sazia per quanto è di buono fatto finora e manda un segnale chiaro cioè che vuole restare in quelle posizioni di vertice conquistate a suon di vittorie e lasse Serroni Gatti a fare la differenza in particolare in attacco ma poi è tutta la squadra a girare specie nella metà campo difensiva laddove il quintetto pugliese viene letteralmente asfissiato e segna due punti nei primi cinque minuti arriva a sette al primo intervallo a dieci al quindicesimo e a dici a sette alla pausa lunga dopo venti minuti la Globo Info Service così ipoteca la vittoria dopo due quarti con gli avversari doppiati trentacinque a dici a sette successo poi blindato con un poderoso avvio di terzo quarto che spinge Campli sino al massimo vantaggio di più ventisette cinquantacinque a ventotto da quel momento è garbage time che permette a Bisceglie di risalire in parte alla china e chiudere la partita con un passivo meno esagerato sessantasei a cinquantaquattro alla sirena finale top scorer del pomeriggio è Serroni con venti punti e quattro su otto da tre seguito dai diciannove di Gatti da segnalare anche gli undici punti di Duranti conditi da sei rimbalzi e quattro recuperi e la doppia doppia di Serafini dieci punti con dodici rimbalzi poco da fare per Bisceglie che porta il solo Potì in doppia cifra undici punti tirando il trentasei per cento da due e il trentadue per cento da tre di squadra per Campli ora poco tempo per godersi la gran vittoria perché già dopo domani e ne arriva un'altra gara di quelle toste sul parquet di San Severo per continuare a inseguire la vetta è tutto per questa prima edizione del TG6 le prossime edizioni alle ore 19 alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per la visione